ci sono centinaia di miliardi di galassie nell'universo ciascuna con decine centinaia o migliaia di miliardi di stelle ricordati che sia una donna ricordati che io nessuna nessuna donna mi ha messo piede nei grossi osservatori in america insomma lei si presenta e dice le condizioni sono allora io voglio suonare la tromba e saldare col saldatore ecco la tromba l'abbiamo doppiata con la sua trombettista invece a saldare ha veramente saldato la gente collieva che lei diceva quello che pensava trasporre in teatro la figura il pensiero di margherita perché c'è l'universo perché è cominciato è cominciato non lo sappiamo è sempre esistito non lo sappiamo